Musica Bentornato Goodread, bentornata Riprendiamo il percorso dove eravamo rimasti nella sezione Modifica Impostazioni PC In questa lezione andiamo a parlare della sottosezione Data, Ora e Lingua Ovviamente per accedere è sufficiente avviare la Charms Bar Puoi cliccare su Impostazioni e infine Modifica Impostazioni PC dove troverai appunto il pulsante relativo Appena accedi alla sezione principale puoi cliccare appunto sul pulsante e troverai due sottosezioni Data e Ora e Area Geografica e Lingua Per quel che riguarda la data e l'ora puoi impostare questi due parametri o automaticamente se questo cursore è attivato oppure se è disattivo puoi impostarlo tu manualmente cliccando sul pulsante appunto Modifica che inizialmente è inibito Per il fuso orario naturalmente scegli la zona di competenza un altro pulsore se è attivato passa automaticamente all'ora legale le ultime domeniche di Marzo e di Ottobre porterà automaticamente l'orario rispettivamente un'ora avanti e poi un'ora indietro Nella sezione inferiore trovi elencati i parametri settati per quel momento per i formati di Data ed Ora qui rappresentati da questo screenshot Se vuoi puoi variarli semplicemente cliccando sul pulsante di sotto cambia formati di Data ed Ora e tramite i vari menu a tendina potrai impostare i nuovi formati L'altra sottosezione Area Geografica e Lingua diciamo che dal mio punto di vista non è molto utile in quanto già sarà naturalmente selezionata l'area geografica di pertinenza ma puoi se vuoi aggiungere anche una tastiera relativa a questa lingua puoi scegliere ovviamente quella che ti interessa dalla sezione successiva Se clicchi sul pulsante relativo alla lingua potrai visionare un altro pulsante chiamato Opzioni che ti permetterà di impostare dei parametri relativi alla grafia ad esempio se utilizzi la tipologia di scrittura a mano libera oppure ogni carattere scritto separatamente come quando digiti con la tastiera Infine puoi rimuovere il tipo di tastiera che normalmente utilizzi oppure aggiungerne una nuova tramite questi due pulsanti Bene, guter dalla schermata Start visualizziamo la Charms Bar poi Impostazioni Modifica Impostazioni PC e andiamo ad individuare la sottosezione Data Ora e Lingua clicchiamoci pure sopra e qui troveremo alcuni parametri che potremmo impostare se questo cursore come in questo caso è già predisposto su Attivato avrai Impostazione Automatica di Data e Ora altrimenti potrai disattivarlo e modificarlo a tua scelta tramite questa sezione riposizioniamo come Impostazione Automatica qui puoi selezionare il fuso orario a qualora non fosse ben predisposto questo cursore ti permette di passare automaticamente all'ora legale come detto a marzo e toglierla ad ottobre qui hai la rappresentazione dei formati attualmente presenti nella selezione oppure potrai decidere di cambiarli cliccando su questo pulsante e tramite i vari menu a tendina scegliere quello che più ti piace dopodiché torna indietro e avrai impostato questi parametri poi hai la sottosezione area geografica e lingua che ti permetterà di selezionare l'area dove ti trovi naturalmente già è Italia in questo caso potresti anche voler aggiungere ad esempio una seconda lingua dalla lista che si presenta oppure puoi gestire la visualizzazione della lingua tramite il pulsante opzioni potrai scegliere il tipo di grafia se scrivere ogni carattere separatamente oppure simulare la scrittura a mano libera eventualmente ti servisse puoi aggiungere una tastiera cliccando sul pulsante relativo scegliendo tra quelle che si presentano nel menu oppure selezionando quella già presente potrai rimuovere la stessa bene questa è stata una lezione molto breve nella prossima lezione continueremo la sezione relativa ora un forte saluto ciao presto saluto caldo e alla prossima